Le Cocou Magnifique, Farsen Trois Act, è una serie di dodici incisioni che Picasso realizzò per il drammaturgo belga Fernand Cromlenc in occasione della sua opera teatrale presentata per la prima volta il 18 dicembre 1920 a Parigi al Teatro de la Maison de l'Oeuvre. Picasso, amico di Cromlenc, pensava da lungo tempo di illustrare questa sua commedia che già nel titolo fa riferimento alla femmina del cuculo, nota per deporre le proprie uova in nidi di uccelli simili a lei. Alla schiusa, che avviene dopo circa dodici giorni, il piccolo del cuculo si sbarazza delle altre uova non ancora schiuse, presentandosi quindi come l'unico ospite del nido. I genitori di quelle uova, ingannati, nutrono il cuculo come se fosse proprio, per due-tre settimane. Nella Francia dei primi del Novecento, questo comportamento del cuculo, scoperto dall'inglese Edward Jenner e denominato parassitismo di cuva, portò alla nascita del termine cocou per indicare una persona il cui partner è infedele. Fernand Cromlenc, con l'aiuto dell'attore e regista teatrale François-Marie Lugnier, mette in scena la gelosia morbosa di un marito che, per avere conferma delle sue ossessioni, spinge la moglie tra le braccia di altri uomini, fino al giorno in cui essa fugge veramente con un contadino intelligente e amorevole. Definita farsa dall'autore stesso, l'écocou magnifique rivela, sul filo dell'assurdo, alte tonalità drammatiche e grottesche, tragica conferma e insieme parodia del tema pirandelliano sull'incapacità di conoscersi. In questa sala potete vedere come Picasso divulgò quest'opera teatrale, realizzando una serie di sequenze erotiche con la tecnica dell'acquaforte e dell'acquatinta, di cui aveva grande conoscenza e padronanza. Attingendo da una profonda conoscenza delle figure mitologiche greche, Picasso disegnò queste sequenze in bianco e nero, nelle quali primeggia la figura del Minotauro, un essere mostruoso e feroce, metà uomo e metà toro.